Carlo, legga sotto pandoro, dolce tipico a forma di tronco di goro, esatto, e questo cos'è? E' il pandoro cincimbi Stefani, è una bottiglia, sembra, è il pandoro ricetta classica ricoperto di cioccolato, e chi lo capisce? Faremo della reclama, e chi la paga? Lei? Non sono mica io Babbo Natale!